strategie pratiche per abbassare la glicemia che cos'è come facciamo il realmente in modo pratico è come sempre cerchiamo di parlare di praticità oggi sono un po emozionato per un po di motivi che adesso vi dirò allora venti secondi e da venti secondi che siamo live aspettiamo che si connettano tutti come sempre io aspetto tutti e veramente voglio sempre vedere chi è il primo a connettersi e chi è il primo a commentare soprattutto gli facciamo vincere una consulenza gratuita poi vediamo chi c'è e chi non c'è allora aspettiamo i commenti commenti like eccetera eccetera io li vedo allora è la prima volta manuela ciao come stai scrivimi nei commenti come stai manuela abbiamo intrapreso un nuovo esercizio nelle ultime due settimane e sta rispondendo alla grande soprattutto l'esercizio la mattina presto poi io so anche che tu raffaele ti alleni la mattina presto molto presto daniele benvenuto di cosa ne avresti bisogno di esercizio paola ciao giovanna giovanna eccoti qua eccoti qua bene allora io con manuela poi tra l'altro manuela abbiamo inserito l'allenamento circadiano quindi la mattina presto allenamento ad alta intensità per dare quel boost che dicevamo anche le altre volte e si sente molto bene durante il giorno allora buonasera massimiliano giovanna daniele paola sabrina sabrina sei la seconda non sei la prima oggi cavolo non sei il primo commento allora prima di iniziare vi stavo dicendo mi sono fatto i soldi come vedete che mi sono comprato un microfono costa poco però credo se mi confermate dall'altra parte che sia di un'altra qualità perché toglie parecchio rimbombo sono sempre sono nella nella ovviamente qui nello studio c'è un rimbombo forte e credo che l'abbia tolto nel bunker nel bunker dove non vediamo mai il sole in realtà io a mezzogiorno esco e vado ad allenarmi al sole allora riccardo cosa hai mangiato ho mangiato una fetta di torta va bene per abbassare la glicemia e il compleanno di tua sorella diciamo che proprio perché il compleanno di tua sorella va bene anche la fettina di torta allora mettiamo il titolo di oggi molto bello poi volevo anche inserire il banner delle domande che potete fare tranquillamente ah ecco manuela hai vinto una consulenza gratuita allora assunta sono tutte orecchie per questa live certo lo so che stai aspettando questa live non sei l'unica volevo però partire inizialmente dando qualche chiarimento e rispondendo a qualche domanda che mi è arrivata e ci è arrivata sulla pagina inerente a anzi innanzitutto ditemi se mi sentite bene con questo microfono scrivetemelo nei commenti perché ci tengo a saperlo perché è la prima volta lo inaugurando proprio adesso quindi se non funziona ditemelo che lo stacco ciao elettra eccoti qua anche te benvenuta allora vi stavo dicendo una cosa importante sì vi chiedo un like vi chiedo anche la condivisione se vi va ci date una mano per nella comunicazione ci date una mano per far star bene le persone perché poi oggi sembra io prendo sempre le cose molto alla leggera ma credetemi che la live di oggi può seriamente salvare la vita qualcuno con i suoi togliendo quei picchi che fanno tutti quei danni oh audio perfetto allora ho fatto un bel acquisto eh pagato anche poco eh sì benissimo massimiliano forte chiaro stella cosa ci scrivi eh ho familiarità per diabete come posso agire per evitare di averlo ho la glicemia 95 cammino molto e non sono in sovrappeso eh rispondiamo dopo eh perfetto mi confermate che si sente molto bene volevo anche eh dare qualche input prima di iniziare vedo che stiamo arrivando tutti qualche input prima di iniziare su quello che succederà il 4 marzo come sapete il 4 marzo è il compleanno di fitness 40 più che compie compie il suo primo anno di vita e eh devo dire con grande orgoglio che è stato un anno bellissimo in realtà la pagina di facebook è partita l'otto aprile insieme al portale ma fitness 40 più è stato e nasce proprio il 4 marzo e nasce da una bella idea da un progetto eh a tre che poi è diventato veramente un progetto nazionale molto 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 forte molto 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 bello e soprattutto molto apprezzato mi è piaciuto tantissimo il filone che ha preso le live abbiamo iniziato con un'idea siamo riusciti ad andare oltre l'aspettativa di avere qua veramente con noi degli ospiti stellari eh nonché Raffaele ma eh tutti tutti quelli e coloro che arrivano tra l'altro eh facciamo un attimo un riassunto del mese di marzo visto che stiamo entrando in marzo il martedì prossimo ci sarà una live molto interessante sui camp i campi elettromagnetici e il suo uso nell'osteoporosi è sempre inerente e il titolo sarà sempre osteoporosi guarire si può ok stiamo parlando di guarigione non stiamo parlando di trattamento stiamo parlando di guarigione e poi ne parleremo insieme c'è un bel progetto dietro ai camp che mi riguarda anche da vicino eh il 16 invece avremo un'altra diretta avremo un ritorno sulla pagina della dottoressa cristina tomasi con la dominanza estrogenica e gli ormoni bioidentici quindi un argomento che ci avete chiesto tantissimo quest'anno anche nella parte finale dello scorso anno e che vogliamo effettivamente riproporre eh poi il 23 c'è ancora un punto di domanda perché stiamo chiudendo una piccola trattativa mentre il 30 ci sarà il dottor De Mari e parleremo degli age ma non svegliamo ancora che c'entra qualcosina con l'argomento di oggi però sono contento di ospitare un'altra pietra miliare nazionale del benessere il dottor De Mari eh ok ho detto tutto non ho detto però non vi ho parlato ancora e adesso ve lo metto anche in sovraimpressione di quello che succederà giovedì eh un attimo di pazienza Raffaele iniziamo perché abbiamo tutte queste comunicazioni da fare ecco queste comunicazioni se ci sono vuol dire che siamo vivi vuol dire che stiamo dando veramente delle delle degli spunti interessanti per il percorso di rinascita e per il benessere delle persone allora come vedete io vi ho messo adesso qua in sovraimpressione link per iscriversi all'evento di giovedì del famoso compleanno che vi dicevo che cosa dovete avere fondamentalmente la voglia di stare insieme saranno 40 minuti di lavoro insieme quando parlo di lavoro non parlo di nulla che è dovuto ma parlo di un esercizio fisico ben eh dosato a quello che è la circadianità del nostro corpo ricordatevi che l'allenamento anti aging segue i ritmi naturali saranno le sei saranno le 18 e 30 per dare la possibilità a tutti di partecipare quindi quindi non sarà un allenamento eh spacca ossa non sarà un allenamento ad alta intensità ok proprio perché seguiamo quello che è il eh il discorso ormonale e accompagniamo buonasera Nadia e accompagniamo le persone al ritrovamento della propria forma tramite il il quello che ci regala l'ormone in quel momento alle sei e mezza di sera ma non andiamo troppo giovedì ci sarò sono molto contento così ci vedremo dal vivo la cosa bella di giovedì è proprio questa che ci vedremo direttamente dal vivo quindi ci sarò io farò questa lezione dove avrà un piccolo intro ci saranno circa 15 minuti di esercizio fisico e poi ci saranno circa 15 barra 20 minuti di meditazione sarà un momento dove che dedicheremo a noi stessi sarà un momento di allenamento per la mente e porteremo tutto quello che è ciao Marco grandissimo eh c'è un porteremo tutto quello che è il benessere psichico e lo porteremo dentro il nostro corpo porteremo tanta gratitudine soprattutto porteremo anche tanta gentilezza cercheremo di portare il momento e di renderlo piacevole eh non solo dal punto di vista materiale delle sensazioni che avremo ma anche dal soprattutto dal punto di vista mentale l'unica cosa che abbiamo dovuto fare è metterlo al numero chiuso quindi trovate nel commento che vi ho messo in sovraimpressione e che ve lo rimetto qua il link per iscriversi semplicemente dovete lasciare la vostra mail e poi in automatico vi viene rilasciato il link dell'evento l'evento sarà su zoom quindi chi non ha scaricato l'applicazione zoom se la scarichi se ricordatevi che eh zoom chiede sempre il permesso all'inizio di attivare di eh consenti al tuo telefono all'applicazione di entrare sul tuo telefono sulla parte video eccetera eccetera dategli l'ok altrimenti non mi sentite e soprattutto non vi si vede ma eh detto questo l'ultima precisazione che voglio fare e non voglio togliere troppo spazio all'ospite di oggi e all'argomento di oggi che è un argomento molto caldo è quella di presentarvi con un tappetino un asciugamano e null'altro eventualmente una bottiglietta d'acqua ma vi ricordo che non faremo un lavoro troppo complicato troppo difficile troppo pesante sarà un lavoro lo stesso lavoro che veniva proposto da ipocrate migliaia di anni fa ma come mai andiamo su una ginnastica di migliaia di anni fa perché era la via per perseguire la salute ok la medicina naturale dell'esercizio che ridona eh elasticità e che ridona flessibilità che ridona libertà di movimento alle nostre articolazioni e al tempo stesso va a stimolare quei muscoli un po' dormienti ok quindi era mia intenzione eh fare questo regalo per quanto riguarda i seguaci della pagina adatto assolutamente a tutti quindi adatto alla signora della signora Pina di 80 anni che magari ha un po' di difficoltà anche a camminare ha dato anche al ragazzo di 20 ok sempre che ci sia un ragazzo di 20 che sulla pagina di FITES 40 più e mi farebbe che piacere ogni tanto che i ragazzi si aprissero un attimino a a noi e alla e al movimento a diegine in Italia festeggiamo bene perché abbiamo raggiunto qualche giorno fa mille iscritti al nostro gruppo privato se non siete ancora iscritti al gruppo privato eh potete chiedere l'accesso si chiama FITES 40 più anti-aging è il gruppo più numeroso in Italia per quanto riguarda l'anti-aging allora eh detto tutto se c'è qualche altra domanda fatemela nei commenti se non ci sono altre domande partiamo mi raccomando iscrivetevi se non vi iscrivete non avete non potete avere il link per l'accesso e vi ricordo che sarà esterno a Facebook quindi non sarà su Facebook ma sarà su Zoom Raffaele benvenuto finalmente buonasera a tutti che piacere di nuovo essere qua ecco sono se vuoi partecipare con noi noi ci siamo poi eh ma eh giovedì sarà un bel compleanno assolutamente allora ecco grazie 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 mille eh diciamo che è un po' anche il tuo compleanno perché fai parte di questa famiglia da un po' di mesi e eh proprio per questo motivo guarda allora mettiamo fuori eh un po' quello che è è il nostro motto vivere secondo natura sempre eh allora oggi c'è un argomento un po' particolare oggi eh parliamo di un argomento abbastanza comune eh buonasera anche a Dana ma un argomento che poi eh forse è anche un po' misconosciuto per qualcuno o magari c'è qualcosa di sottinteso che poi effettivamente non è così quindi eh prima di parlare prima di darvi degli strumenti pratici per quanto riguarda l'alimentazione la nutrizione ma soprattutto eh lo stile di vita e l'approccio che devo avere per mantenere la glicemia bassa eh come posso cioè quali sono gli esami fondamentalmente che poi vai a richiedere anche tu per valutare un po' se una persona è affetta da una condizione prediabetica o o diabetica facciamo un quadro generale Raffaele ti lascio un po' la parola giusto per partire proprio da zero ciao Roberta vai allora eh ciao a tutti innanzitutto di nuovo vi saluto con grande piacere allora questo è un argomento molto delicato perché come io ripeto spesso ai miei pazienti l'insulina secondo me ma secondo anche gli studi più recenti è in realtà l'ormone più potente che abbiamo cioè è un ormone dal quale dipende una cascata di eventi e di reazioni in grado di sconvolgere tra virgolette nel bene e nel male il nostro organismo l'insulina eh a sua volta trattina una cascata degli eventi e un susseguirsi di ormoni in grado di influenzare eh il vero e proprio stato di benessere eh e di salute del nostro corpo uno su tutti è il famoso cortisolo certo di cui tu un mesetto fa hai messo su Instagram un bellissimo post in cui facevi vedere l'andamento il picco minimo alle 23 poi si arriva per raggiungere durante il giorno io ho fatto fatto questo post che parlava di ipercortisolemia e ipocortisolemia quindi è proprio un discorso eh abbastanza grande però effettivamente poi l'insulina e cortisolo hanno poi un effetto abbastanza eh all'antitesi ma allo stesso tempo diciamo che uno va poi a essere eh regolatore dell'altro da un certo punto di vista assolutamente nel senso che eh troppo l'insulina troppo bassa causa eh un difetto nel signaling del cortisolo così come un insulina troppo alta causa allo stesso modo un difetto nel signaling del del cortisolo quindi la parola d'ordine nel nostro organismo è equilibrio certo è questo equilibrio che io sto riscontrando penso anche tu sta mancando oramai in un numero elevatissimo elevatissimo certo certo proprio perché quando si parla di glicemia c'è sempre questo discorso legato ai troppi zuccheri eccetera eccetera ma qui si parla proprio di ancora una volta di omeostasi esatto quindi fondamentalmente il primo allarme eh che si ha è col classico esame della glicemia ok quindi si va a valutare quella che è la concentrazione del dello zucchero del glucosio nel sangue questo è proprio diciamo l'esame preliminare classico certo 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 in base al risultato di questo esame si possono fare eh degli una prospettiva su quella che può essere la condizione del dell'individuo a questo punto un esame ancora più importante per approfondire la situazione è il il famoso esame dell'emoglobina glicata certo perché un eccesso di zucchero nel nel sangue può andare a glicosilare l'emoglobina come sapete che l'emoglobina è un è una potina fondamentale che trasporta chiedo scusa l'ossigeno nei nostri tessuti ok il concetto è che mentre i valori della glicemia hanno sbalzi repentini dovuti fondamentalmente a quello che si mangia l'emoglobina invece ha eh una variazione su tempi più lunghi almeno si parla di almeno di un paio di mesi certo 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 quindi la variazione dell'emoglobina glicata c'è proprio indice del fatto che la situazione di eh alterazione della salute eh è prolungata e costante nel nel tempo ok dopodiché se la situazione è mh è successivamente ulteriormente da da indagare si può andare a fare il dosaggio dell'insulina stessa eh a livello ematico quindi le tappe fondamentalmente sono sono queste ecco devi devi sapere che comunque l'approccio ad oggi anche di un tecnico dello sport non può eh essere lontano nel nell'allenamento antiegene nell'allenamento che non riguarda la performance ma riguarda quello che è il benessere della persona da la mancata analisi e la mancata valutazione di questo valore perché a oggi eh ci arrivano a noi tecnici kinesiologi ci arrivano troppe persone con un'insulina resistenza eh che eh non sanno effettivamente di 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 avere un problema di quel tipo oppure in una condizione prediabetica esatto assolutamente sì questa condizione allora eh è una condizione a livello ehm prediabetico di tipo 2 è una condizione influentevolmente dagli stili di vita ed alimentazione nel senso mentre il diabete di tipo 1 è un fattore genetico quindi un difetto congenito nella da parte delle cellule del nostro pancreas di secere insulina eh il diabete di tipo 2 invece proprio un'alterazione indotta dagli stili di vita e ovviamente nel nostro caso attività motoria e alimentazione vanno a a braccetto la cosa eh preoccupante secondo me è che fino a 80 anni fa eh il diabete di tipo 2 era una patologia non dico quasi eh quasi inesistente però era rara era rara e invece adesso è una patologia che ha un'incidenza altissima ok questo ci dà l'idea di come sedentarietà e alimentazione scorretta sono in grado di tra virgolette creare quasi delle patologie nuove sì tant'è bravo bravo hai detto bene tant'è che adesso è stato coniato un nuovo termine che ovviamente tutti possono capire che è proprio quello di di obesità cioè di una condizione di sovrappeso di 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 primo grado dove di primo secondo e poi per salire proprio verso la condizione di obesità che è poi strettamente correlata poi alla mancata gestione degli zuccheri esatto tra l'altro siamo riusciti siamo come società moderna a creare una patologia nuova negli ultimi anni che ne mette insieme altri cinque che è la sindrome metabolica certo praticamente di queste nell'ottanta 85 per cento dei casi il diabete è sempre sempre presente guarda casual non è un caso proprio di tanto uno degli esami a nutrizione umana è proprio sindrome metabolica e malattie dell'intestino c'è un esame unico con queste due terminologie proprio per arrivare a essere veramente un qualcosa di studiato in questa maniera perché è diventato poi un vero e proprio problema di prima cosa è assolutamente questo si portare a quello che questa domanda non è riconosciuto da molti medici allora io scusami e davide però quando leggo le domande certo certo sì l'altra volta secondo me una live attiva forse sei d'accordo certo 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 dopo dopo andiamo no io non solo perché volevo fare un intro sulla condizione anche pre diabetica che è appunto sottovalutata è sottovalutata perché allora tra l'altro guarda un episodio che mi è successo oggi io seguo pazienti in più province d'italia ok io sono a novara e diciamo che il 70 per cento dei miei pazienti è in provincia di novara quindi conosco eh tutti i centri in cui si fanno gli esami del sangue e conosco i loro valori qua novara il valore sempre di 116 il valore massimo ok oggi una mia paziente eh che seguo in provincia di di vercelli quindi a 60 chilometri non a sì anche meno anche meno che meno mi manda questo messaggio preoccupatissimo in cui guarda ho l'esame del sangue ho la dicemia 99 e io ho pensato qual è il problema questo centro ha a posto come cutoff 100 è l'abbassato l'abbassato allora eh non mi sento di dire che questo centro ha abbia sbagliato perché forse intorno al 100 si può valutare dal 100 al 115 la condizione eh pre diabetica quindi può essere che questo centro abbia volontariamente inserito questi valori per mettere un campanello d'allarme e far sì che il paziente vada dal proprio medico e ne parte certo guarda dottor io ho 99 100 e il limite invece magari in altre zone se hanno 100 e il limite è 116 stanno giustamente tranquilli è una situazione da valutare con attenzione perché hanno ragione entrambi secondo me sì ma ma io sì 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 allora perché riccardo scrive anche anche in toscana e cento il valore massimo certo ma secondo me a mio parere e poi per quello che è anche l'esperienza non basta più valutare la condizione con quel valore cioè valutare l'emoglobina gliche cioè però il concetto in ragione alla domanda di quello che possono fare i medici possono farlo rifare dopo 15 giorni se rimane così può scatenare il campanello d'allarme dire ok andiamo a valutare l'emoglobina gliche andiamo a valutare quello che è veramente l'impatto nei due o tre mesi precedenti così capiamo veramente quello che può essere un indicatore più preciso certo perché poi è quella che va a fare i danni no sulle pareti delle arterie bravissimo però e sto notando come ci siano c'è questo movimento in direzione sempre più stretta riguardo ai valori di centri diversi quindi alcuni stringono il campo altri li lasciano come valori che sono mai accettati da danni insomma e quindi no questa è una cosa interessante secondo me certo certo allora guarda passiamo facciamo un break un attimo che c'è qualche domanda che arriva allora scendendo la fetta di torta l'abbiamo letta prima ne ce n'era una che avevo letta ecco questa qua di stella le vado in ordine cronologico buonasera o familiarità per il diabete come posso agire per evitare di averlo ho la glicemia 95 cammino molto e non sono in sovrappeso grazie allora sul camminare molto direi che è la parte fisica davide giustamente sì 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 poi poi certo per cento allora attenzione non sempre il sovrappeso è sintomo di condizione prediabetica o viceminista cioè nel senso che spesso può essere una conseguenza protratta nei mesi o negli anni il segreto è a parte l'attività motoria ovviamente una corretta alimentazione la corretta alimentazione poi dimmi anche tu davide sì ne approfondiremo ma appuntati in maniera molto generica è non eliminare del tutto il carboidrato perché questo può comportare una ipoglicemia riflessa che può attivare il cortisolo quindi con effetti successivi dannosi a livello per esempio muscolare o di neoglucogenesi sì però mangiare i carboidrati giusti quindi fondamentalmente non quelli raffinati ma quelli integrali e soprattutto evitare quegli alimenti tendenzialmente fatti dalla grande industria in cui aggiungono zucchero ovunque senza che ci sia un significativo vantaggio o motivazione sì c'è un po di diatriba su questo discorso collegato proprio alla gestione del carboidrato eliminandolo totalmente perché io so che ci sono persone che proprio eliminano totalmente c'è una chetogenica sconsiderata per la gestione quando la reputi la strada giusta allora la reputo sempre in considerazione del singolo individuo ok questo la chetogenica tu lo sai io è una no ovviamente ovviamente come dici tu e il caso deve essere da guardare nel complesso non può bastare soltanto guardare la glicemia però io amo la chetogenica ha un sacco di vantaggi sono usciti studi recenti sul tumore oltre a quelli assodati da anni sull'emicrania cefalea mal di testa e epilessia sono usciti sempre studi recenti sia a livello di diabete quindi un vantaggioso livello di diabete di tipo 2 sia a livello di protezione cardiovascolare sia a livello di molti tumori tra cui tumore al seno che è un caso che ho affrontato oggi tra l'altro in alcune mie pazienti il problema dagli studi più recenti non è tanto legato a un discorso di chetogenica o basso carboidrato è legato a un effetto di yo-yo nell'assunzione degli alimenti e l'effetto yo-yo nel peso e nell'assunzione dello zucchero cioè faccio due mesi di chetogenica poi faccio due mesi in cui mangio biscotti brioche pasta tutti i giorni prendo sei chili poi torno alla chetogenica perché li voglio perdere ecco in questo caso alla lunga ci può essere una alterazione della regolazione della risposta ormonale certo una un errore secondo me che viene fatto dalle persone comuni nell'utilizzare questo regime potrebbe essere anzi non potrebbe essere è proprio quello di non capire che il nostro corpo il metabolismo ha necessità di tempo ad abituarsi a un determinato regime quindi cosa vuol dire vuol dire che se io passo da una low carb o a una mediterranea classica perché quella settimana vado in vacanza o altro non è che il giorno dopo faccio un regime di mediterranea e il nostro corpo si abitua nostro corpo ci mette tanto soprattutto se questa per esempio low carb è stata fatta per per talmeno tre sei mesi quindi quindi detto questo dovete iniziare a capire che il problema è proprio la gestione la risposta metabolica che ha la nostra efficienza metabolica esatto poi è normale che a quel punto una paziente che viene da me ea 15 giorni di emicrania o cefalea grappolo al mese perdendo 12 giorni di lavoro al mese e prendendo farmaci di tutti i tipi quindi imbottendosi è normale che a quel punto lo stile chetogenico stando al 5 per cento di di carbo massimo al giorno per lei è una vera cura è una vera terapia certo certo e quindi a quel punto si va a modulare il resto certo certo però non facciamo chetogenica per la prova costume e non facciamo mediterranea abbiamo raggiunto il peso ideale adesso posso mangiare qualsiasi cosa certo 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 ok allora io chiudere il cerchio per tornare poi sul discorso alimentare di nuovo parlando di quello che aveva scritto stella no quindi come posso agire cammino molto e non sono in sovrappeso allora come sempre quello che fa da padrone è la matematica lo dico sempre la matematica fa sì che tu introduci 100 ecco per rimanere in norma per rimanere sul tuo peso devi ritornare devi eliminare 100 ma se tu non ti muovi ovviamente e il discorso diabete di tipo 2 il discorso glicemia va ad essere va deve essere considerato perché questi zuccheri bene o male qualche danno lo vanno andare lo vanno fare o vanno a stoccarsi poi si trasformano e vanno nel nostro tessuto diposo oppure poi se non vengono utilizzati e sono tanto in giro nel nostro sangue vanno a fare famigerati danni quindi detto questo cammino molto io nell'ultimo periodo sto combattendo una battaglia forte contro questo discorso della camminata perché purtroppo la nostra sanità il nostro sistema sanitario non supporta quello che è lo sport non lo supporta dando anche delle informazioni che possono essere tranquillamente travisate ovvero la camminata va bene camminare tutti i giorni fa bene allora il concetto qual è quanti anni hai che tipo di attività hai sempre fatto qual è il tuo stile di vita ti muovi tanto che lavoro fai ci sono talmente tante variabili che la camminata in sé io non so a che velocità vai io non so in che senso tu mi stai proponendo la camminata cioè è una camminata geriatrica è una camminata di 20 chilometri ad almeno 7 chilometri orari cioè dipende è fatta in pendenza molto importante quindi di per sé è una strategia sicuramente per gestire il bilancio calorico la camminata tenete conto di questo presupposto che io difficil io mai do come esercizio fisico la camminata o meglio se vuoi se vuoi la fai ma la fai perché ti piace farla la fai perché comunque anche mentalmente ti fa stare bene andare in mezzo alla natura a fare la tua camminata ma a prendere la camminata come l'esercizio fisico da fare che mi prescrive il mio kinesiologo per muovermi direi anche no perché perché deve far parte della nostra vita camminare ovvero che ne so sono in giro il sabato la domenica vado a camminare ma come faccio a preservare i miei muscoli solo allenandoli nella camminata non si allenano i muscoli lo dovete capire la camminata serve per creare un dispendio calorico mi cammini tre ore al giorno ottimo stai bruciando tanto ma i tuoi glutei non si stanno alzando ma la tua tendina che hai dietro al trapezio al trapezio dietro il tricipite non si sta tonificando perché perché non sto facendo degli esercizi mirati attenzione l'esercizio per i tricipiti non tonifica qua qua è una zona di accumulo ok di grasso che si va a contrastare con la dieta e degli esercizi che rinforzano quella zona ma di per sé no beh allora marco ci scrive la camminata consuma le articolazioni la camminata va bene noi siamo fatti per camminare quello che consuma le articolazioni è la fase di volo la fase di volo è data dalla corsa ora se hai 25 anni ti piace andare a correre ok se ne hai 50 a me non piace molto il concetto della corsa perché perché bisogna vedere quanto sei abituato a correre se sei un ex atleta se sei una persona allenata perché l'errore più grande lo fanno coloro che non hanno mai fatto nulla iniziano ad andare a correre da 50 anni è lì il problema sull'apparato osteoarticolare che crea i problemi sì invece la camminata in pendenza quindi è una buona pratica per controllare il livello di zuccheri ma se vuoi fare dell'esercizio fisico che ti mantiene in forma in realtà ci devi aggiungere qualcos'altro molto interessante allora guarda le leggiamo tutte non vi preoccupate adesso arriviamo ciao raffaello spesso mal di testa essendo diabetica di tipo 2 perché innanzitutto bisogna capire questo mal di testa di che origine è innanzitutto quindi prima di addentrarsi in ulteriori commenti però cerchiamo di capire una cosa cercate sempre a livello di valutare ho mal di testa bene che cosa ho fatto o che cosa ho mangiato una due tre ore prima ok perché può essere che se mangio tanto zucchero zucchero non vuol dire solo quello che metto nel caffè vuol dire un panino veloce a pranzo col pane raffinato col pane bianco vuol dire il dolce dopo pranzo vuol dire a metà mattina metà pomeriggio tre biscotti col tè e zuccherato con la collega se lo mettiamo in relazione a quello può essere che l'effetto eccitante dello zucchero sul vostro sistema nervoso centrale sopra una certa soglia diventi dannoso questo iper eccitabilità che causa lo zucchero per voi può creare una situazione di malessere certo quindi e ci può stare assolutamente ci può stare che se mangiate troppo zucchero vi venga mal di testa attenzione voi non questo non vuol dire che siete diabetici perché il nostro corpo in una sostanza introdotta nel nostro corpo può andare a causare una molteplicità di reazioni biochimiche e quindi una molteplicità di effetti quindi può essere che voi riuscite a compensare benissimo la quantità di zucchero a livello ematico per cui la glicemia non vi sale sopra i voli d'allarmi però questo zucchero in eccesso trovi in voi una valvola di sfogo che non è la glicemia alta o il diabete ma è per esempio una iper eccitabilità nervosa che vi causa mal di testa certo stato d'animo proprio uno stato d'animo poco regolare allora se mi prendi solo una cosa si approfitto per dire questo gli esami del sangue sono giustamente un'arma che abbiamo però attenzione non nascondiamoci dietro il dito del a gli esami sono a posto cioè sono una persona chiaramente in sovrappeso con un girovita chiaramente superiore ai 95 centimetri ok gli esami del sangue sono a posto ma attenzione se io ho una vasca da bagno e apro l'acqua dico l'acqua non esce fino a quando non arriva al bordo a quel punto quando esce esce certo certo non voglio far preoccupare però voglio dire che gli esami se chiaramente una persona fuori forma a livello fisico a livello di peso di girovita attenzione il corpo compensa certo certo però attenzione che compensa dicendo va bene va bene va va bene poi quando non compensa più esplode tutto ma poi è proprio quello nessuno non voglio portare sfiga nessuno e attenzione però è una condizione che vi dico non nascondetevi dietro agli esami del sangue a posto quando i parametri oramai sovrappeso girovita per l'assoluto di una persona valgono di più di un esame del sangue in certo certo è proprio per quello che si stanno abbassando i valori questa famigerata glicemia portata a 100 perché si è visto che i soggetti da 100 a 110 non si muovono dalla sedia e non cambiano le loro abitudini alimentari io sono di questa opinione e credo che siano tutti di questa opinione cioè si abbassano piano piano i valori di controllo o addirittura quando facciamo una glicata che è superiore al 6 al valore 6 6 per cento che ti dicono condizione prediabetica vuol dire che tu stai andando verso quella condizione quindi sveglia ti inizia a fare qualche cosa volevo anche chiudere un discorso di prima che sabrina dice io che un'artrite riesco solo a camminare in questo momento non potrei mai correre sabrina in realtà hai l'artrite fai esercizi invece di camminare fai esercizi sul posto ci sono dei circuiti e io ho fatto anche la diretta se ti ricordi sull'is e sull'hit dove si possono fare dei circuiti un buon lavoro cardiovascolare di pari entità a una camminata con degli esercizi mirati al tempo stesso mi torni fichi il muscolo al tempo stesso non vai a gravare con sulle articolazioni facendo degli esercizi mirati e questa è la realtà di tutti monia purtroppo da quando hanno chiuso la palestra sto perdendo muscolo stai perdendo muscolo perché sei abituata ad allenarti con i pesi quindi con determinati esercizi ma esiste un mondo dove esiste l'esercizio a corpo libero partecipa alla diretta di giovedì che vediamo qualcuno di quegli esercizi torniamo su perché ne avevo lasciate un po indietro di domande riccardo valori di glicemia tra 86 e 92 possono essere considerate sempre normali o potrebbe esserci anche in questo caso un insulino resistenza ci sono eventualmente altri esami da valutare fondamentalmente bisogna capire se sono a digiuno ovviamente è un valore ottimo perfetto se sono a digiuno dal dalla notte 8 9 10 ore è un valore ottimo assolutamente se questo valore dovesse rimanere sempre e comunque inalterato bisogna andare a indagare perché comunque è normale che la glicemia è molto suscettibile all'assunzione di cibo quindi se mangi determinati alimenti un minimo di innalzamento a livello ematico in seguito a un pasto è normale ed è giusto che che ci sia quindi bisogna andare a indagare col proprio medico sono i difetti di assorbimento oppure altre problematiche ecco per chi volesse poi degli spunti per anche una delle strategie pratiche inerenti alla colazione seguitelo su instagram perché ogni tanto mette delle colazioni e delle soluzioni molto buone per per contrastare i picchi insulinei mici grazie mille sappiamo che si possono fare dolci a base di farine che non alzano la glicemia è che anzi sono ricche magari di proteina e fanno meglio ancora con questo proposito si si dico che oggi è uscito se non l'avete visto guardatevi il post che è uscito sulla pagina che parlava di biscotti e di zuccheri perché perché vi propinano sostanze dove vi dicono senza zuccheri aggiunti ma non vuol dire che allora li prendo perché non hanno zuccheri in realtà li hanno comunque occhio perché si nascondono dietro a una serie di dolcificanti dei quali non sapete magari neanche l'esistenza e che in realtà fanno comunque schizzare sulla nostra insulina senti raffaele il diabete o il pre diabete non è sempre correlato al sovrappeso sempre no assolutamente no assolutamente no perché per esempio nella sindrome metabolica ci sono cinque potenziali patologie e si è in sindrome metabolica quando tre di queste almeno tre di queste sono sono rispettate c'è anche il girovita sopra determinati valori ma se il girovita è normale ma sono coinvolte altre tre o quattro sono comunque in sindrome metabolica cioè non è proprio ecco si parla di sindrome metabolica quando ci sono determinati diciamo valori nel computo degli esami emato chimici che sono un po borderline sì ma diciamo la sindrome metabolica comunque riguarda il girovita i tigliceridi la la pressione il livello di di glicemia ovviamente il colesterolo e l'emoglobina glicata sono questi i fattori perciò tre di questi sono presenti siamo purtroppo in sindrome metabolica però come ribadisco come ho detto prima il sovrappeso può non essere presenti se sono presenti gli altri se comunque in sindrome metabolica certo ma se una persona 78 di glicemia è utile lo stesso fare emoglobina glicata può essere utile come come ho detto perché perché io 78 oggi non so cosa avevo ieri o l'altro ieri magari sono andato oggi per cui sono stato l'unico giorno virtuoso in cui magari ho mangiato in maniera corretta certo o magari ho mangiato le sette invece che alle nove come ceno di solito esatto quindi la glicemia è una fotografia di quel momento l'emoglobina glicata è il nostro sto due almeno dei due mesi precedenti certo 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 può avere un senso senti rossella ma abbinare legumi e pasta dipende dipende cosa fai se stai tutto il giorno davanti a un computer hai un surplus calorico che non ti è utile se passi otto ore in mezzo ai campi come facevano nel cilento o in calabria 60 anni fa quando è stata studiata la dieta mediterranea ha un senso io ho pensate che ho un amici alcuni atleti di bodybuilder di bodybuilding che fanno proprio gare e che fanno anche allenamenti ad alti volumi che cosa vuol dire si allenano parecchio anche due volte al giorno credetemi che l'alimentazione loro non è per niente per forza pulita per come intendiamo noi anzi a colazione pasticcini eccetera 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 eppure li vedete veramente hanno una percentuale di massa grassa veramente bassa perché perché bruciano perché i loro allenamenti sono talmente tanto intensi che comunque bruciano quindi è proprio una questione di se sono nei campi a spaccare la legna tutto il giorno mi posso veramente permettere anche di sporcare un pochino della nostra alimentazione verso il zucchero vai vai quello che fosse già in un'altra line abbiamo parlato il famoso discorso dieta mediterranea stiamo secondo me la nostra società sta utilizzando il discorso della dieta mediterranea in maniera non corretta sta sdoganando il concetto che possiamo mangiare qualsiasi cosa anche il 70 per cento di carboidrati indipendentemente da quello che facciamo attenzione noi siamo un bilancio noi siamo un equilibrio noi siamo il frutto di quello che facciamo quindi se io sto tutto 8 o 9 ore davanti al pc porto il figlio davanti a scuola lo vado a prendere dentro l'aula in macchina e lo porto in camera da letto in macchina e non faccio e faccio sei passi al giorno legumi e pasta è troppo allora io non vorrei terrorizzare chi ci sta ascoltando ma è giusto farlo presente è una cosa che si è vista per la prima volta nel 2016 che cosa è successo per la prima volta nel 2016 e per la prima volta di sempre non era mai successo l'aspettativa di vita è calata invece di salire è si è ridotta quindi abbiamo una percentuale di bambini obesi sempre più in aumento si prevedono veramente uno sfracello da quel punto di vista lì quindi sappiate che o si prende oggi una decisione definitiva di perseguire un determinato stile di vita anti egini io ne faccio di video sull'anti egini da intendersi come una quantità di abitudini positive da introdurre all'interno della nostra giornata oppure si prende quella strada lì purtroppo non ci dobbiamo far mangiare la strada da quello che è la vita di oggi c'è una bella domanda per te buonasera monia grazie per la domanda buonasera perché anche se faccio un pranzo abbondante con proteine a fine pasto una voglia assurda di dolce non sono diabetica non sono grassa ho la pancia allora ha voluto puntualizzare in fondo ho la pancia l'onestà di monia complimenti allora domanda numero uno eh ogni tanto fai così o fai così da da settimane perché eh affinché si instauri il meccanismo in cui il nostro cervello si disintossichi dalla voglia di zucchero e dalla voglia di dolce servono almeno dai quattro agli otto nove giorni quindi vuol dire che se faccio un pasto proteico quindi vuole proteine e verdure oggi ma i quattro cinque giorni precedenti ho mangiato tanto carboidrato la voglia di dolce rimane perché il nostro cervello non ha avuto il tempo di abituarsi eh e di adattarsi a questa situazione ok certo se lo faccio abitualmente può essere un'abitudine che abbiamo e quindi col tempo sicuramente la la perderemo terza ipotesi eh eh leggo al discorso del della pancia e del cortisolo perché se questa situazione ci manda in situazioni di stress noi comunque avendo il cortisolo alto liberiamo glucosio quindi attiviamo la neoglucogenesi a livello ematico e questo ci può portare a conseguenze picchi verso l'alto e picchi eh verso il basso a livello insulinemico e questo ci può portare la voglia di dolce ha risposto da da settimane quindi eh io sono convinto che sia o un pensiero che lei ha che mh se ti porti avanti questo desiderio di dolci e pensi costantemente al dolce difficilmente riuscirai a staccatene cioè come quando pensi non fumo ma fumare una sigaretta non fumo ma vorrei fumare ho la voglia del fumo costante oppure vive in condizioni di alto stress dato dal lavoro o da diverse situazioni per cui mh il cortisolo induce questa neoglucogenesi quindi questo aumento di glucosio a livello ematico che può creare questo up and down che il nostro cervello sente come carenza di zucchero in certi momenti certo certo poi esiste anche il craving dei carboidrati per le donne che è un po' particolare allora Anna Maria glicemia basale 110 ma con carico di glucosio dopo due ore 87 sono a rischio diabete sono normopeso eh farei la prova della della glicata eh sì assolutamente sì farei la la prova della glicata ed eventualmente un dosaggio dell'insulina perché quello che ne abbiamo detto finora è che tutta questa assunzione di zuccheri costanti porta inizialmente a un insulino resistenza cioè a un certo punto le nostre cellule dicono insulina adesso non ne posso più di di vederti quindi non ti faccio entrare ok quindi le cellule non rispondono più all'insulina l'insulina non sa più dove depositare questo zucchero e lo lascia a livello ematico il protassi di questa situazione porta a volta una iperinsulinemia perché questo zucchero che non riesce a scaricare nelle cellule rimane nel sangue è comunque un input di c'è zucchero c'è zucchero c'è zucchero quindi più insulina più insulina più insulina perciò andrei andrei a fare la prova della glicata e poi eventualmente il dosaggio dell'insulina a livello ematico certo 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 allora eh sì una cosa importante che stiamo dimenticando questa sera che vorrei che passasse è questa non è che stiamo dimenticando diciamo che ci saremmo arrivati in qualche maniera l'esercizio fisico soprattutto a moderata intensità quindi esercizio aerobico si è dimostrato in una quantità di studi inaudita la cosa diciamo la pratica ideale per aumentare la sensibilità insulinica muscolare che cosa vuol dire vuol dire che migliora la nostra sensibilità insulinica il contrario esatto quindi peggiora l'insulino resistenza quindi c'è una predisposizione maggiore all'utilizzo viene capito viene preso il glucosio direttamente e molto più in in maniera molto più efficiente da parte del nostro muscolo rispetto all'accumulo nel grasso o addirittura rispetto al fatto che continua a girare in giro nel circo lematico quindi non è perché l'esercizio fisico cioè l'esercizio fisico da questo punto di vista si può considerare veramente la medicina perché perché va ad essere poi quella cosa che ci aiuta ci sono persone che si sono salvate la vita mantenendo uno stile di vita attivo non solo nel muoversi ma anche nel fare un esercizio regolare almeno due tre volte a settimana 45 minuti può bastare cioè quindi non dimentichiamoci quanto sia importante quella cosa la si può fare anche in casa nel due per due la si fa con determinati esercizi non dovete per forza andare a correre o altro è valerio collega buongiorno anzi buonasera che non si capisce perché miei pazienti uomini in particolare hanno sempre analisi porter line e pensano di stare bene solo perché ci sono meno di tre asterischi sull'analisi questo è bello facciamo una statistica degli asterischi certo una cosa che vorrei anche aggiungere è che tu poi questa la sai molto meglio di me è che il no la nostra capacità a livello epatico è a livello muscolare di immagazzinare glucosio come energia sotto forma di glicogeno non è infinita quindi non ammazziamoci di carboidrati pensando che dobbiamo ne immagazziniamo all'infinito perché quello muscolare epatico si satura molto rapidamente poi andiamo a livello del grasso e quello non si satura mai di tutto quello che non mettiamo a livello muscolare ed epatico lo mettiamo nel grasso certo certo e poi un'altra cosa da sottolineare importantissima che è giusto sapere è che l'insulina nel nostro corpo non è infinita se poniamo il nostro corpo in una situazione continua di picchi insulinemici negli anni può verificarsi il diabete di tipo 2 può prendere due strade o un insulino resistenza o una mancanza poi di produzione insulinica e a quel punto siamo a terra non ci possiamo più rialzare ecco qua un'altra bella guarda il digiuno intermittente può aiutare a gestire una fase prediabetica o comunque a prevenirlo abbinato con gli esercizi di lavoro muscolare non troppo intenso assolutamente sì perché quanto riguarda parte degli esercizi lascio assolutamente a te ricordiamo che il digiuno intermittente cioè vuol dire il non fornire cibo al nostro organismo per almeno 14 barra 16 ore attiva tutti quei meccanismi di cui il principale più importante è l'autofagia per cui il nostro corpo diamo la possibilità al nostro corpo di regolarsi da solo e questo è uno dei meccanismi che ci ha portati ad evolvere se siamo fin qua è perché il nostro organismo si sa regolare diciamo che anche che è una vera e propria arma che abbiamo proprio per evitare questi picchi per abbassare i nostri livelli di glucosa come diceva e abbinato all'esercizio fisico non troppo intenso direi che è perfetto quindi anche a digiuno fare esercizio fisico in questo caso ha molto senso fatto in questa maniera è con non troppo intenso perché perché poi troppo intenso prevede che noi abbiamo delle scorte di zuccheri ma se le tendiamo nell'esercizio intenso a ridurre subito l'esercizio moderato ci permette di scrittare fare questo switch di andare verso l'utilizzo poi dei dei grassi che ci danno in energia quasi infinita fino a 2000 chilocalorie allora come dice raffaele ho la glicemia 78 colesterolo e 3 gliceriti normale ma girovita e bilancia dicono che non niente ha fatto bene sabrina il consiglio che ti do è segui le istruzioni di davide per quanto riguarda l'attività motoria e abbinaci un'alimentazione corretta proprio per la tua perché ricordi che il nostro organismo se lo stimoliamo verso il bene lui è sempre disposto a seguirci quindi non è mai troppo tardi per invertire determinate tendenze verso il benessere certo allora guarda una domanda un po particolare bianca ci dice che è un tumore al seno e al tempo stesso le hanno ovviamente sconsigliato di mangiare proteine di base animale in questo caso per il controllo della glicemia come ci comportiamo allora è un argomento molto molto delicato molto molto dibattuto allora io lancio questo dato scientifico poi vorrei che ognuno presse le proprie conclusioni per non come dire sollevare un polverone premesso che troppo cibo animale a prescindere non è mai il troppo non è mai un bene dal punto vista fisico dal punto di vista etico dal punto di vista dell'ambiente dell'inquinamento eccetera punto 1 capiamo cosa vuol dire troppo cibo animale perché l'oms ha chiaramente detto che fino a 400 grammi di carne rossa tendenzialmente non ci sono problemi ok ma il vero era legato molto all'aspetto dell'acrilamide quindi di quelle sostanze più livello anche intestinale ovvero che tumore al colon è un altro discorso attenzione a questo concetto una cellula sana del nostro organismo è così come una cellula tumorale per vivere hanno bisogno di energia una cellula sana da una molecola di glucosio in grado di produrre 36 38 molecole di energia una cellula tumorale tendenzialmente da una molecola di glucosio ne produce due di energia ditemi voi a questo punto se mangiate lo zucchero nelle tutte le varie forme chi è più avido una cellula sana o una cellula tumorale giungete voi le vostre conclusioni per non sollevare un polverone certo certo cioè tra il non mangiare due bistecche di carne rossa a settimana ma sdoganare il concetto mangia pasta e farina raffinata tutti i giorni con un tumore io mi farei delle domande che cose peggio no tra l'altro ci sono poi persone molto famose in italia colleghi che hanno studiato tanto e che hanno dato tanto all'italia che hanno proprio parlato di di regimi alimentari a zucchero veramente veramente basso quasi zero proprio per contrastare questa situazione io non so se tu puoi condividere della un uno studio io provo mandato al limite lo leggi tu guarda si mandato domandato adesso sul cellulare sul cellulare vediamo se riesco ed è uno studio uscito su clinical nutrition che è una rivista che in ambito nutrizionale ha un ruolo molto importante sul tumore al seno e alimentazione aspetta un secondo che vediamo se riesci riesce a inviarmelo via mail allora intanto io rispondo a un paio di domande che c'erano qua se riesce a fare questa cosa che lo condivido direttamente da qua e allora come diceva polichè i carboidrati te li devi meritare mi dici la tua mail sai che in questo momento davide.teggi.gmail.com la sapete tutti se mi volete scrivere ora allora paola ciao come andiamo ci vediamo giovedì paola allora il digiuno intero venerdì non mi ricordo ci vediamo anche giovedì all'evento e il digiuno intermittente per chi è tendenzialmente sottopeso a bella questa bella ti risponde dopo raffaele te l'ho si intanto condivido il digiuno intermittente non è tanto legato al sovrappeso o al sottopeso più allo stato di salute dell'organismo perché perché puoi mangiare in maniera corretta in quelle otto ore aiutando il tuo corpo a dare il surplus per provare ad aumentare il peso in maniera corretta ovviamente non mettendo su su grasso ma puoi comunque ottenere i benefici le 14 16 ore di digiuno dal punto di vista della salute attivando l'autofagia certo certo allora c'era un'altra bella domanda intanto che io condivido allora dieta vegana può predisporre all'allianzamento della glicemia? sì può predisporlo perché ricordate che dieta vegana vuol dire che a volte mangio tantissimi legumi forse di più di quelli che devo e il 50% del fagiolo è carboidrato così come si tende a mangiare tanti preparati già fatti dall'industria di molti hamburger vegani molte frazioni a base di soia che sotto il claim vegano in realtà nascondono un'aggiunta e una presenza eccessiva di zucchero poi comunque essere vegano non preclude per esempio mangiare determinati biscotti o brioche che non contengono latte non contengono uovo però magari contengono un sacco di zucchero certo certo allora ecco qua che adesso vi condivido non so se si vede eccolo qua allora ve lo metto a pieno regime eccola qua questo è del 2021 allora devo togliere un attimino davanti c'è il vediamo è il bello della diretta è sempre questa colpa mia allora qua ok tolto questo togliamo questo togliamo il banner qua ok ecco qua vedete allora questo è uno studio del 2021 una dieta chetogenica consumata durante la radioterapia migliora diversi aspetti della qualità della vita e della salute metabolica nelle donne con cancro al seno se volete andarvi a vedere lo studio andate a cercare rainer clement potete magari cercarlo credo su pubmed questo significa che certo 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 sempre per il discorso non concentriamoci solo non devo mangiare carne se purtroppo ho un tumore ma attenzione allo zucchero senti siamo ormai addirittura d'arrivo grazie ci chiede una buona colazione al mattino che ci consiglia dottore consiglio tutto andate sulla mia pagina facebook dove potete trovarle sicuramente carboidrati non raffinati sicuramente una buona fonte proteica esempio può essere yogurt bianco bianco non alla frutta in cui potete aggiungere voi della frutta secca delle scaglie di fondente e della frutta fresca per esempio certo certo oppure aggiungere anche delle fette dei vasa o delle fette biscottate integrali magari col burro d'arachidi certo certo allora ne ho bella questa è che cosa ne pensi della zona per evitare picchi glicemici penso che in condizioni normali e fisiologiche è un qualcosa che non non ci dà picchi glicemici eccessivi quindi sempre attenzione alla fonte certo la fonte il carboidrato è importante certo io c'è stato un periodo della mia vita dove facevo la zona sono riuscito a ottenerlo perché poi il problema della zona è proprio riuscire a mantenere ad ogni pasto il 40 30 30 ed è stato dal punto di vista alimentare di performance che sono riuscito a ottenere il miglior momento della mia vita veramente controllo glicemico credo a livello personale per me è stata fantastica il problema per me era riuscire a mantenerla perché poi ogni pasto cercare di fare un 40 30 30 è dura come il ferro sì molto dura allora l'hai detto allora l'ultima domanda che c'era eccola qua poi chiudiamo buonasera io sto allattando da anni non riesco a fare una dieta ho preso 10 kg da quando sto allattando non so come fare come mi sento un camion con il grido disperato questo sì bisogna ovviamente fare un piano alimentare bilanciato in base alle alle abitudini nel senso che io in visita sto insieme un'ora con le persone perciò dietro queste parole ci può ci può essere una molteplicità di situazioni e di condizioni che solo stando insieme si possono capire certo e in questo rientra anche l'alimentazione è normale provate a seguire le linee guida che io e te diamo nelle nostre live certo poi normale che il caso specifico come dico sempre io è regole generali e applicazioni individuali certo 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 allora stavo stavo guardando un'altra cosa molto interessante un paio di domande carine sì la zona per regolare i livelli ormonali è veramente buona poi ce n'è una qua dottore cosa ne pensa del porridge come colazione ottimo quindi latte d'avena farina d'avena non con musli cioè non comprate il musli già fatto ma fatevelo voi con i vari ingredienti perché sono zuccheri sono zuccheri zuccheri puri tutto quello che qualcuno che non sia la mamma o la moglie o la fidanzata fa per voi lo fa non perché vi vuole bene ma perché vuole guadagnare allora un evergreen d'anna maria questo è un evergreen alcuni consigliano di non mangiare carboidrati la sera cosa pensate penso com'è la tua giornata cosa sei sei un atleta per cui arrivi a sera hai fatto 100 km in bicicletta mangio il carboidrato hai fatto un'ora di crossfit e sei in forma mangio il carboidrato ti sei allenata un'ora con davide e sei in forma mangio il carboidrato sei stata 12 ore davanti un pc e un'ora e mezzo in macchina valutiamo la tua valutiamo la tua settimana e poi valuta anche la qualità del tuo sonno quindi se magari non hai tanto problemi di sonno e mangi già tanti carboidrati durante il giorno carboidrati la sera sono abbastanza inutili viceversa se non dormi un'altra per terra fa ele ma posto workout è giusto mangiare alimenti che alzano la glicemia allora qua rientri anche tu in cioè dipende da com'è questo workout che ho persone che vanno a corricchiare tre quarti d'ora e dicono ho bisogno nel senso in questo caso no è normale che se il tuo obiettivo è aumentare la massa muscolare o aumentare le prestazioni e sei in forma e quindi il workout non è un qualcosa fatto per creare un deficit calorico per perdere peso ma è fatto a scopo tra virgolette prestazionale allora è normale che entro un'ora anche mezz'ora un apporto di carboidrati necessario per andare a ripristinare le riserve di glicogeno esaurite certo certo io poi dico anche che non tanto scusami per la glicemia per il glicogeno proprio sì 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 certo sono cose diverse certo io dico anche che che tu sia a un regime low carb che tu sia a un regime con carboidrati normali cerca di lasciare i carboidrati il più possibile nel pre e post workout della tua prestazione detto questo se come diceva giusto Raffaele se fai una prestazione se hai fatto una prestazione moderata o bassa intensità come può essere dal classico jogging puoi anche non non anzi magari un semplice frutto può bastare se veramente hai consumato tanto se hai interesse a mettere della massa muscolare ricordati di non lasciare mai a digiuno il tuo corpo anche soprattutto dai carboidrati però diciamo che la classica Shura Maria che fa la corsettina dopo il lavoro alle 5 e mezza per perdere peso torna e si mangia il pan in cassetta con la marmellata no certo certo ok alleluia sono riuscito a salvarmi al 5% infatti mi sentirete diverso allora quindi stasera posso mangiare un po' di hummus e verdura cruda? certo perché no messa così è un elemento che non ha conservanti non ha coloranti non ha zucchero aggiunto direi di sì certo certo allora ci siamo io posso dirvi solo questo che è stata una bellissima sono stato in bella e dolce compagnia tutta la sera mi è piaciuta Riccardo ci scrive io mi alleno la mattina alle 6 con i pesi e con allenamento e infatti anche Raffaele e con allenamento in HIT dopo devo fare colazione ma se non metti i carboidrati sei un pazzo secondo me eh sì eh assolutamente in questo caso anche perché poi sei a completo digiuno dalla sera prima e ti serve un po' un booster e ricordatevi che la mattina i carboidrati sono lo sprint della giornata grande Daniele ho visto prima il tuo 30 e lode di sindrome metabolica grandissimo eh collega Daniele e basta Raffaele vuoi aggiungere qualcosa? direi che è stato un piacere come sempre e spero insomma di che insieme abbiamo fatto un po' di chiarezza e abbiamo aiutato chi ci ha seguito a stare meglio certo io spero veramente per tutti voi che sia stata interessante la nostra diretta ma soprattutto più che interessante che sia stata utile eh per eh la vostra il vostro percorso io vi ringrazio vi ricordo che l'appuntamento eh ah guarda ti fanno anche i complimenti grazie Raffaele è preciso e chiaro come sempre grazie Sabrina sempre nuovi spunti grazie mille il pane primus va bene? sì benissimo direi anche dopus se sì quando? allora va bene dipende sempre dalla situazione in cui ci troviamo dal tuo sito di vita, dalle tue abitudini da che cosa stai facendo ok ragazzi le domande sono per forza sempre c'è un proprio un discostamento tra quello che è un consiglio e quello che è il personalizzato perché il quadro che guardiamo noi è sempre diciamo che non possiamo fare una ricarica proteica col pane primus cioè per quanto abbia un po' di legumi però voglio dire non ne avrà mai così tanti quindi se un qualcosa che vogliamo mangiare dopo un minimo di prestazione per integrare di glicogeno va bene se invece ci serve una ricarica anche proteica dobbiamo aggiungere qualcos'altro certo certo allora anche a te grazie Monia per essere stata con noi vi do l'appuntamento a martedì prossimo con la diretta sui champ sarà assolutamente scoppiettante ci sarà anche con noi credo da casa il dottor Pisano che conoscete tutti molto bene l'ultima cosa prenotatevi per giovedì quando arriviamo alla chiusura siamo a numero chiuso quando arriviamo alla chiusura non possiamo più aspettare nessuno io Raffaele ti ringrazio ti richiedo che quando avrai tempo il mese prossimo magari di tornare qua con noi a parlare di un altro bel argomento molto bene nei prossimi giorni buttiamo giù la data certo grazie Laura di essere stata con noi grazie a tutti ci vediamo giovedì dalle 18.30 per 20 minuti di allenamento anti-aging e 20 minuti di meditazione insieme buona serata a tutti grazie a tutti ciao ragazzi grazie a tutti